Un incontro inatteso ma nel senso della gioia e dell'affetto nei confronti del Papa. Sulla scelta di meridio della misericordia che hanno caratterizzato l'anno santo e conclusosi da alcuni mesi, il Pontefice ha visitato il centro regionale Sant'Alessio Margherita di Savoia per i ciechi a Roma. L'incontro con gli ospiti della struttura, persone con una disabilità sensoriale legata all'uso della vista, non vedenti dalla nascita o a seguito di grevi patologie e alcuni con pluri disabilità, è stato segnato da momenti di dolcezza, soprattutto nei saluti con i circa 50 bambini che frequentano il centro per ricevere una formazione speciale che gli aiuti nei piccoli gesti quotidiani. Accanto a loro ci sono pure 36 anziani e adulti residenti fissi presso la struttura. Papà Francesco ha lasciato un dono all'istituto e firmato una pergamena per la cappella del centro a ricordo dell'incontro. Grazie a tutti.